Mitardjuric Noi dobbiamo giocare molto meglio se vogliamo fare qualcosa di più E' più una questione secondo te di stanchezza? Ma soprattutto si anche di stanchezza ma ci sono come ho detto prima che la squadra è veramente giovane E' importante che non perdere la testa in momenti difficili quando siamo con il score vicino vicino Fino adesso non è che facciamo male ma dobbiamo fare molto meglio perché sono avanti da noi squadre come Macerata, Modena, Perugia, Verona Anche perché è un campionato molto equilibrato questo Sì, anche questo, c'è anche la Champions No, non possiamo dire che stiamo male ma dobbiamo imparare, è la verità Grazie, in bocca al lupo